Sì, spesso si sottovaluta. Io in effetti ho preso in prestito una frase molto intelligente dell'ammiraglio Pettorino per il titolo del mio intervento. Senza sicurezza non c'è sviluppo e poi addirittura proseguiva neanche civiltà. Non c'è niente di più vero, tanto che il ministro Toninelli l'ho presa anche come slogan dalla nostra assemblea, se si ricorda, dalla nostra assemblea di aprile. Il pilotaggio guarda solo ed esclusivamente alla sicurezza, perché è vero che noi tuteliamo anche gli interessi legittimi degli armatori rendendo il porto più fruibile, le manovre nei tempi migliori cercando di ottimizzare al meglio il poco tempo che sempre c'è ma la sicurezza rimane sempre assolutamente il faro conduttore che sapete benissimo in Italia è egregiamente controllata, gestita e coordinata solo ed esclusivamente dalla Capitanina di Porto, Guardia Costiera e noi come braccio tecnico evidentemente interveniamo nei porti. Oggi ne parleremo, la formazione e la federazione, nello specifico sempre appunto col Comando Generale, l'anno scorso al Nepal Shipping Week avevamo fatto l'affirma ufficiale del decreto interdirigenziale che riconosceva la risoluzione dell'Aimo A960 in relazione proprio alla formazione dei piloti. Oggi siamo quasi già alla metà della categoria, si è già aggiornata, si è messa già in linea con quasi un anno di anticipo rispetto alla chiusura finale ma non solo, come federazione lanceremo proprio oggi il nostro safety program che abbraccerà anche sul consiglio dell'EMPA, la nostra associazione europea abbraccerà anche i pilotini, il personale imbarcato nella nostra pilottina che dovrà essere in numero adeguato perché a volte non sempre un uomo solo a bordo basta e soprattutto addestrato, quindi bisognerà certamente implementare, anzi iniziare perché di fatto ancora non c'è un programma di questo tipo, iniziare un programma di addestramento per il personale, i conduttori che ci mettono a bordo delle navi. La prestazione di pilotaggio inizia con l'imbarco del pilota, quindi il personale con il quale noi collaboriamo nei porti tutti i giorni, tutte le notti, in qualsiasi tempo è assolutamente di primaria importanza e deve essere adeguatamente addestrato.